Noi siamo gli indimenticabili, 27 anni che siamo insieme a recitare sopra il palco, una commegna nata così, per gioco abbiamo una particolarità, che le nostre commedie, i nostri sketch sono nostri e senza copione, quindi è un po' improvvisato. C'è proprio una pratica vera e propria che si chiama improvvisazione teatrale, quindi siamo su quella strada. Sì, sì, perché la commedia, se tu vedi la stessa commedia non è mai uguale, può durare un quarto di più, un quarto di meno, perché tutta improvvisazione puoi mettere, levare, togliere senza problemi. Siamo felici di partecipare per la prima volta al Teatro Sotto le Stelle qui a Fano e speriamo di divertirci. Il nostro scopo è solo uno, è divertirci e far divertire, perché noi abbiamo partecipato alla corrida nel 2003 e abbiamo vinto il Televoto, andando alla finale, perché è una cosa, la prima volta con un sketch teatrale alla corrida con Gerry Scotti, poi era nel 2003, la prima volta che è stato portato uno spezzone di teatro alla corrida, che no, canti, poesie, balli, ecco. Siamo riusciti anche lì a far divertire. Siamo riusciti anche lì a far divertire.